Invece della dieta, prova il metodo SAKUMA. 5 minuti al giorno bastano per un fisico da modella. Questi sono i famosi esercizi del metodo SAKUMA. Sono 5 esercizi da eseguire per 5 minuti al giorno durante 2 settimane e vedrai che risultati. Primo esercizio, una ripetizione, due posizioni, 10 secondi per ogni posizione, 3 ripetizioni. Grazie. Grazie. Primo esercizio numero 2, 10 ripetizioni, 6 secondi ogni ripetizione. Esercizio numero 3. 10 ripetizioni per gamba, 3 secondi per ogni ripetizione. Grazie. Esercizio numero 4. 10 ripetizioni, 6 secondi per ogni ripetizione. Grazie. 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 Esercizio numero 5. 10 ripetizioni. Grazie. 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 Grazie per aver visualizzato il video. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.